Per tutti ragazzi, eccoci qua tornati su questo nuovo video ragazzi Io in questo video non tratterò giochi oppure cose divertenti e roba del genere Ma ho tratto una cosa abbastanza seria Ho avuto molti commenti dai miei amici youtuber O comunque anche da voi che siete iscritti nel mio canale Che mi dicono guarda, tu non puoi fare visual o iscritti col nome simile a quello di vostro caro Dexter Io ragazzi, non volevo fare visual in questa maniera E di sicuro non volevo fare visual mediante il nome del vostro caro Dexter E tanti anche i miei amici youtuber mi hanno detto guarda Marco Ti consiglio di cambiarlo perché così non porterai né visual, né iscritti, né commenti e né tuttora Io ragazzi ho apprezzato di questo vostro consiglio ragazzi Perché comunque io ragazzi io vi ascolto come i miei iscritti io vi ascolto E per cui ragazzi io sono qua pronto per accontentarvi Io ragazzi ho preso questa decisione che poi era l'unica ragazzi Che anche i miei amici mi hanno detto guarda fai bene E ragazzi io non sarò più da oggi il vostro caro gamer ma sarò Black Viper E così ci mettiamo tutti il cuore in pace ragazzi Comunque vi do pienamente ragione nel senso che io non voglio fare visual mediante il nome del vostro caro Dexter Però voi avete ragione che comunque il mio nome è molto simile a quello del vostro caro Dexter Per cui ragazzi io mi cambio il nome su Youtube così non ci saranno più problemi Dopo questo piccolo discorso ragazzi spero che abbiate capito Le mie intenzioni non erano quelle di visual mediante sempre il nome del vostro caro Dexter Ma io volevo essere proprio il vostro caro gamer Ragazzi voi avete pienamente ragione Per cui io sono qua per accontentarvi Io adesso vi accontento ragazzi e accontento anche me stesso Bene ragazzi dopo questo punto ragazzi votate, commentate se non siete iscritti Iscrivetevi mi raccomando ragazzi da oggi io sarò Black Viper Per cui se non riuscite a trovarmi come il vostro caro gamer Io sappiate che mi chiamo Black Viper Tutto attaccato Bene ragazzi votate, commentate se siete iscritti Iscrivetevi al mio canale ragazzi mi raccomando Sotto in descrizione troverete la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram ragazzi Noi ci becchiamo con il prossimo video ragazzi Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale mi raccomando ragazzi Condividete la mia pagina YouTube eccetera Qui da Black Viper è tutto Bella